questo bisogno di chiudere la partita e di passarlo sostanzialmente al Ministero dell'Interno. Loro protestano in modo un po' esagerato, un po' esagitato, esagerato, non lo direi idoneo come termine, e subito diventiamo sostanzialmente dei ribelli, dei rivoltosi. Ci sono stati sicuramente molti amici o molti comunque appassionati di quello che può essere la cosa pubblica che sono venuti da tutta Italia, li hanno chiamati infiltrati. Ci sono stati ragazzi un po' più vivaci, come si dice, i centri sociali, che sono in valle comunque da 15 anni, sono assolutamente, come ha detto qualche mamma, figli nostri, e ci siamo stati noi. E' pacifico che un cinquantenne di Valsusino con famiglia a carico probabilmente ha meno coraggio, meno possibilità di essere in prima fila in quegli scatti giornalistici che sono girati ovunque.